Corsi di basket, di calcio e multisport con una proposta di ludoteca acquatica per i centri essivi organizzati dal CGFS. Un'offerta che abbraccia ragazzi di età diversa, dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori. Per i più grandi sono previsti anche un soggiorno di una settimana alla Betone e tre in Val di Bisenzio. Penso che da parte dell'amministrazione sia un dovere sostenere un'attività che va incontro all'esigenza delle famiglie. Perché finisce le scuole, il problema per tante famiglie è dover poter tenere i ragazzi in sicurezza e in modo tranquillo, dover fargli passare le giornate. I campus saranno attivati da metà giugno fino ai primi di settembre con una pausa di due settimane ad agosto. Gli spazi messi a disposizione sono la scuola Meucci, i campi della Cico Iano e Santa Lucia, gli impianti sportivi 2A, la piscina di Via Roma, fino agli impianti sportivi di San Paolo. Fuori città, seguiti da Chinda e SRL, saranno organizzati 300 estrivi in Val di Bisenzio, mentre in collaborazione con Firenze Autodore sarà organizzato un campus alla Betone. Siamo di nuovo ad estate, qual è la proposta del CGFS? La nostra proposta è una proposta che si rinnova da tantissimi anni, è una proposta molteplice perché non è solo il classico centro estivo fatto negli spazi, ma è un'offerta molteplice anche di attività proprio di escursionisti, di outdoor, la possibilità di avere diverse tipologie di attività sportive, quindi permettere alle famiglie di avere un costo relativamente basso per poter mandare i propri figli a continuare a fare attività durante la stagione estiva, quindi tenerli impegnati oppure far provare degli sport. Infatti alcuni sono organizzati a modi campus proprio specifici per lo sport, come quello ad esempio che si farà presso il campo sportivo di Coiano-Santa Lucia.